E' allarme dei sindacati sugli ammortizzatori sociali, proprio oggi infatti scadono i tre anni di cassa integrazione e di contratti di solidarietà previsti dal Jobs Act e dunque terminano i sussidi per circa 140.000 metallmeccanici che quindi rischiano di essere licenziati. Di qui dunque la giornata di agitazione indetta dai sindacati dei metallmeccanici in vari gruppi industriali insieme a un presidio al Ministero dello Sviluppo Economico. O si affronta subito il tema della conferma della cassa integrazione in scadenza, spiega la Fincisla che chiede subito un tavolo di confronto, o presto decine di migliaia di lavoratori di tutti i compatti rimarranno senza alcuna protezione. Al Ministro Di Maio che domani è in programma di incontrare i segretari sindacali, la FIOM CGL chiede di allungare almeno di ulteriori 12 mesi la cassa integrazione. Settimana cruciale per il Governo e non solo sulla questione lavoro. All'esame del Consiglio dei Ministri ci sarà anche la nota di aggiornamento del documento di Economia e Finanza, primo passo della legge di bilancio, documento che poi dovrà essere inviato alla Commissione Europea. Se continua il pressing di Lega e 5 Stelle per allargare le maglie della spesa, il Ministro dell'Economia, Tria, difende il rapporto tra deficit e prodotto interno all'ordo all'1,6%, come concordato con Bruxelles. Sul tavolo tra i provvedimenti c'è anche la quota 100 per le pensioni, che prevede di poter lasciare il lavoro a 62 anni con 37 di contributi. Secondo alcune indiscrezioni tra l'ipotesi ci sarebbe, per ogni anno di anticipo, una riduzione temporanea tra l'1 e l'1,5% fino a 67 anni, oppure una riduzione permanente ma più contenuta.